Ci troviamo ad Arru, questa è la chiesa parrocchiale. Adesso vi farò ascoltare le campane distese dalla cella campanaria e poi un po' di allegrezze che mancavano quando avevo ripreso le campane. A presto! Ci troviamo sul campanile di Arru, abbiamo qui le tre campane, la campana maggiore con un abbrunazzo dell'Ottocento, di metà Ottocento, poi abbiamo qui la seconda che è una Roberto Mazzola, e qui vediamo l'anno, e la piccola che invece è nuova, come vedete. Penso sia una dei poli. Sentiamo il suono del campanone. Suono della seconda. Suono della terza. Un po' di panorami, vabbè. Si vede solo Salussola Monte. La chiesa. Probabilmente qui c'è San Secondo, ma non si vede perché il campanile è coperto dagli alberi. e di qua abbiamo lì San Damiano, frazione di Carisio, perché di là si arriva in provincia di Vercelli. Presto! La chiesa. La chiesa. Ciao. Un luogo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.